benvenuto in questo virtual tour io sono angelo camilleri addis mister affitti brianza e ti porto in visita ad esio in un bellissimo trilocale con mansarda ingresso sul soggiorno con cucina vista con ampia zona dedicata alla cucina e al soggiorno dalla cucina si è accesso al primo balcone in direzione dell'ingresso della palazzina nella parte laterale troviamo un secondo balcone con vista sul verde cittadino passiamo quindi alla zona notte dove troviamo la camera da letto matrimoniale con ampia finestra bagno con sanitari o stazione lavatrice vasca con paraschizzi e scalda salviette cameretta dal quale si ha accesso al terzo balcone attraversiamo quindi il disimpegno per andare in mansarda attraverso una bellissima scala moderna in legno e ferro mansarda alta con tetto in legno e travia vista lucernari aria condizionata ingresso attraverso seconda porta blindata ripostigli laterali e un bellissimo terrazzo riservato con vista panoramica della città per tutti i dettagli puoi visitare il sito www.adesio.soloaffitti.it per maggiori informazioni sulla cultura dell'affitto visita il blog misteraffittibrianza.com solo affitti affittare con sicurezza